Signaco Presidente Marconi, intanto si immaginava che la sua decisione muovesse così tanto la politica trevigiana e veneta? No, sinceramente no. Beh, vuol dire che è importante? Guardi, l'unica cosa che mi sento di dire è che mi rendo disponibile ad un confronto davanti alle telecamere con i consiglieri Pasqualotto, Gatto e Catapan, dove ognuno spiega le proprie ragioni e conseguentemente se ne assume poi le responsabilità. Attacca direttamente tre dei suoi consiglieri il sindaco dimissionario Stefano Marconi e lo fa dagli uffici della sua azienda di trasporto dove è tornato a lavorare a tempo pieno. Un attacco frontale ma anche un modo per dire che le elezioni di Alberto Stefani alla segreteria della Liga non c'entra nulla con le sue dimissioni. Anzi, sottolinea, un minuto prima dell'apertura delle urne aveva mandato la lettera di dimissioni oltre che al prefetto anche i due sfidanti di Padova, proprio per non vedersi etichettata politicamente una scelta dettata dall'esasperazione in comune a Castelfranco. Io penso che nel momento in cui si è sotto ricatto la peggior cosa che si possa fare è cedervi. A mio modo di vedere sono meccanismi della Prima Repubblica e della peggior parte della Prima Repubblica dove magari, non so, una congestione non andava bene, piuttosto di tenere il numero legale si va a fare pipì oppure è morta la nonna, c'è un raffreddore, le questioni da Prima Repubblica non mi appartengono. Certo, a Mettemarcon si può non condividere la scelta di Zai di avallare un centro di cambio sesso regionale quando i casi ne richiederebbero al massimo uno per tutta Italia, così come le mezze aperture alla maternità surrogata. Ma qui il problema è solo e solamente interno alla maggioranza di Castelfranco. Cosa dice Fratelli d'Italia che dicono che la sua decisione è dai responsabili? Dico che è proprio per una questione di responsabilità che dobbiamo affrontare questo problema perché i cittadini abbiano le risposte che si attendono. Insomma per Marcon la misura è colma o come si dice in questi casi il dado è tratto, o quasi. Ci sono 18 giorni di tempo ancora perché ormai un paio se ne sono già andati, pensi di poter tornare indietro. Vediamo se accettano di confrontarsi pubblicamente. Mi piacerebbe tantissimo e credo sarebbe un'opportunità anche a loro, un'opportunità di chiarezza e di trasparenza nei confronti dei cittadini e ci confrontiamo sui temi amministrativi. Quindi li aspetto presso i vostri studi, Lucio. Grazie. 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 Grazie.